L'obiettivo sicuramente è quello di divertirci innanzitutto perché come ha detto giustamente Andrea siamo una squadra di amici, di giocatori che stanno insieme da tanto tempo quindi per noi è importante questo qua. Poi l'obiettivo chiaramente passo dopo passo se vengono tante vittorie chiaramente sarà quello di vincere il campionato.